La cazza che è stata finalmente ha trovato qualcuno, mi fa piacere, ora devono fare qualche cosa per quegli altri, perché è un peccato. Se lo aspettava? No. È una scoperta un po' inquietante perché comunque appunto la cronaca ci dà il ritratto di un padre di famiglia, un lavoratore, per cui questo diciamo getta un po' di inquietudine. Alle volte sono i peggiori. Insospettabili. Insospettabili. Grazie.